Lancia la canzone come se tu fossi Pippo Baudo a Sanremo, però con la voce del personaggio della serie. Sì, sì, mi piace. È benissimo. E allora? Molto bene! L'acqua calda, sai, l'acqua trenta, ma è l'acqua calda, mi distraccorderà. Sassi a sentire la mia storia, ero vicina con il mio papà, e per errore si è accaduti nelle soggetti. Da quel giorno l'unizio per noi, una vita di avventure, da solo gente più fortemente in guai, trasformando l'arma in un arè. E' soccato in un panda, che è una storia, stampa, e pure questo è rama. Certo è bello la normalità, rama, rama, questo non faccia di nuovo, fermarti tutti insieme a noi. Con la fantasia che guarda l'idea, tutto il mondo più bello si verrà. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Qualche pota l'occhio accadda C'è una storia strama Che abbiamo visto lama C'è un po' di persone mie Rammarando, spiegaci, becchio Io lo so, io lo so, io lo so L'acqua fredda sai, l'acqua fredda mai L'acqua fredda ti raccolterà Grazie, 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 grazie Ma la serie l'ha diretta lui più di vent'anni fa Ma con la scelta delle voci Come ti è venuto di chiamare me, Massimiliano Alto Stella Musi per fare i protagonisti di questa serie Allora io ho visto la serie E le voci assolutamente non erano simili alle vostre Però sapete che i vostri caratteri, la vostra bravura nel recitare Calzavano per i personaggi Non so, io dirigevo il doppiaggio Poi a un certo punto è comparso all'interno della serie Il personaggino, ho detto ma vabbè Poca roba lo faccio io Perché sarà una cosa occasionale 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 So, io vi ho detto, io ho detto che era un testo che non mi piace inizia la visione E non mi piace Sempre che non mi piace Vivi e non mi piace È un testo che mi piace Un testo che non mi piace Vale, perché non mi piace E non mi piace E non mi piace Grazie a tutti.